Un grande racconto teatrale con la potenza espressiva del film e scena al Teatro Petrarca di Arezzo uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, protagonista e regista Massimo Popolizio. Tu sei ancora più segnato praticamente, biondo? Se direi che non ho ancora lo sangue di Normale, dopo mille anni, in Normale è la Sicilia. Al centro del racconto, la passione, il destino è un'azione che tutta è raccontata in un lungo flashback in puro stile hollywoodiano. Eddie Carbone, il protagonista, immigrato italiano a New York e in tre scena, infatti, quando tutto il pubblico sa già che è morto. Un classico della letteratura americana scritto nel 1955 a partire da un brutale fatto di cronaca, ma che ancora oggi tocca temi di stringente attualità come la fuga dalla povertà e le tensioni dell'immigrazione clandestina. Il caffè! Teresa Carbone, dove fai sul quadratto? Stasera credo che potevo! No, non puoi, vai! In America! Do Patrici! Voglielo diventare! Pure in Italia!